Nuovi interventi di manutenzione sull'autostrada A9, la Enate, Como, Chiasso. A partire da questa sera e per quattro notti consecutive fino a giovedì 20 maggio, dalle 21 alle 5 del mattino successivo, scatteranno alcune chiusure al traffico lungo l'autostrada per consentire attività di monitoraggio nelle gallerie Montolimpino, Quarcine e Sanfermo. Nel dettaglio gli interventi comporteranno la chiusura del tratto di autostrada compreso tra l'uscita, lago di Como e l'allacciamento con l'A59 tangenziale di Como verso la Enate. Di conseguenza sarà contestualmente chiusa l'entrata dello svincolo di Como Centro verso la Enate. Sarà inoltre interdetto al traffico il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera.